Riccardo, a 17 anni non è da tutti andare a Vinovo e fare un provino per la Juventus? Beh, è stata sicuramente un'esperienza bellissima, una delle più belle della mia vita e comunque sono felice anche perché è stata un'esperienza molto positiva e sono anche molto soddisfatto e spero di aver fatto bene e di aver attirato l'attenzione di questa grande squadra. Perché da ambienti bianconeri si dice già che l'anno prossimo ti aggregerai alla primavera di Fabio Grosso? Io non lo so, comunque se la Juve dovesse volermi ben venga, però adesso io penso solo al campionato e a continuare a far bene per la mia squadra. Avrai ovviamente, te lo auguriamo, una lunghissima carriera davanti, ma fino a questo momento a chi ti senti di dire grazie? Io mi sento di dire grazie a tutte le persone che mi sono state vicine, in primis al mister che è stato il primo a darmi fiducia e inoltre a tutto lo staff e a tutti i compagni che mi hanno aiutato a crescere, ma non solo, anche ai mister degli altri anni, gli anni scorsi, perché tutti sono stati d'aiuto a farmi crescere nella mia, speriamo, carriera. Qualcuno della Juventus l'hai visto? Ho visto pianici in macchina, così di sfuggito. Ho visto pianici in macchina, così di sfuggito.